Come richiesto dal pubblico ministero, giovedì la Corte Suprema del Brasile ha condannato a 17 anni di reclusione un sostenitore dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Aessio Lussio Costa Pereira, 51 anni, è il primo dei 1.390 imputati dell'assalto di Brasilia dell'8 gennaio 2023 ad essere condannato. Le telecamere del Senato lo avevano filmato mentre indossava una maglietta che invocava un colpo di Stato e mentre registrava un video in cui elogiava gli assalitori che avevano fatto irruzione al Congresso. Grazie a tutti.